missa di verona dal punto più alto dell'arena i pezzi di mura sono quelli dell'arena il resto e giù piazza bra obri obro questo è ciò che si vede da sull'arena ok se non ci brucia il sole facciamo così 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 e ancora il palcoscenico della ida in corso di preparazione per questa sera